Quando passo il mese alla sala, devono abbassare la testa, devono portare rispetto. Ma senza questi bambini non c'è più camorra, perché il coraggio che hanno i ragazzi non ce l'ha un adulto. Noi abbiamo provato tutto. Abbiamo visto la fame, morti, spacciare, siamo cresciuti nella sofferenza. Noi ormai abbiamo il nostro sacro freddo, se no non abbiamo paura di nulla, nemmeno più della morte. Groups of children, called baby gangs or paranze, are terrorizing ordinary citizens around Italy through robberies, violent attacks and drug dealing. In Naples, these baby gangs coexist and in some cases work directly with the Camorra, the local mafia, made up of individual clans, who ran organized crime in the region. Amade Notorious Camorra Stronghold, Levele di Scampia.